La canzone segreta di Ornella Muti le ricorderà sicuramente nei momenti della sua vita. Ed è un piacere enorme, un'emozione enorme veramente cantarla. In una serata dei miracoli come questa non possono mancare gli amici speciali. Per Ornella ci sarà Daniela, un'amica a lei cara. Ho conosciuto Ornella 15 anni fa in un negozio dove collaboravo, in un negozio in centro, un parrucchiere. Ho pensato di aver conosciuto la figlia perché era una giovanissima ragazza, così frizzante, così divertente. Per cui io sono rimasta affascinata letteralmente da questa donna. È stata una ragazzina bellissima. È già molto brava. Una giovane donna, bellissima, sempre brava. Adesso è una donna meravigliosa, anche nonna. La sorpresa più grande per Ornella sarà Akash, suo nipote, che ha deciso di superare la timidezza e di salire su un palco per la sua amata nonna. Ho la fortuna di avere un rapporto molto bello, molto stretto. Comunque ho vissuto gran parte della mia vita a casa sua. Quando nonna mi vedrà qui, spero sarà felicissima, penso sarà felicissima. Comunque non la vedo da un po' di tempo, quindi... Io non vedo l'ora. Lei è assolutamente un'icona, ha lavorato con i grandi registi italiani e attori. Si emozionerà come al solito, perché è una romanticona. Grazie. Grazie. Grazie.